salve buongiorno a tutti ragazzi io sono faro tube e oggi siamo qui insieme per andare a presentare l'ultimo prodotto da me realizzato stiamo parlando di questo telaietto il quale permette di andare ad installare il blocco motore minarelli orizzontale sotto il telaio del booster come vediamo qui alle mie spalle un qualche cosa di simile che permetteva di fare ciò esisteva già ma sono andato a rivedere totalmente il progetto e a rivoluzionarlo in che modo beh questo lo scopriremo insieme all'interno del video se siete interessati al prodotto sotto al video sotto in descrizione trovate il mio contatto instagram la mia mail dove potermi contattare per maggiori informazioni detto questo direi che possiamo partire bene allora come indicato dentro il video in questa prima parte che secondo me la più importante andremo a vedere le specifiche tecniche del telaietto quindi tutte le migliorie che sono andato ad apportare e le divideremo in due fasi la prima parte legata alla ciclistica e la seconda parte legata al montaggio quindi le migliorie che sono andato a presentare con questa versione per permettere un corretto montaggio di alcuni componenti che prima non era possibile montare iniziamo a parlare intanto per chi non conoscesse il prodotto a che cosa serve serve ad installare i blocchi motori minarelli orizzontali sotto al telaio del booster o bws che originalmente esce con blocco motore minarelli verticale ad aria potremo quindi andare a prendere i blocchi motori del nitro dell'f12 dell'aerox insomma di tutti gli scooter con blocco motori minarelli orizzontale e andarlo installare sotto al nostro booster perché fare questo perché potremo andare a trasformare il nostro booster col raffreddamento a liquido questo ci permetterà di avere una serie di categorie di cilindri molto più performanti rispetto al raffreddamento chiaramente ad aria e ovviamente anche a minor costo perché per quanto riguarda minarelli orizzontale che è un blocco motore molto conosciuto sull'usato abbiamo davvero tantissima componentistica e quindi chiaramente i costi si abbassano detto questo parliamo adesso del nostro telaietto telaietto che ne facciamo una rapida carrellata qui accompagnato oltretutto da i portachiavi che faccio ormai da diverso tempo quindi se siete interessati potete contattarmi sotto in descrizione nel video trovate i miei contatti instagram o per mail telaietto dicevo è sempre fatto su piastre tagliate a laser di acciaio composto poi totalmente da dei tubolari come vedete qui che ne permettono appunto il montaggio completo lavorati su macchine utensili per permettergli il corretto parallelismo e successivamente chiaramente verniciato poi composto il tutto con dadi e bulloni per permettere di assemblare il supporto motore così come le vedete adesso passiamo alla parte legata alle migliorie sulla ciclistica e andiamo esattamente a vedere in che cosa è stato migliorato la prima miglioria a portata riguarda questo piccolo componente anche di serie il blocco motore minarelli orizzontale usciva con dei fermi che sono questi seger che dovrebbero permettere al motore di non oscillare e di rimanere in asse purtroppo soprattutto andando su con le cavallerie quindi con cilindri molto spinti questi seger creano dei problemi in primis abbiamo notato problemi di spostamento proprio del seger quindi seger usciva dalla sua sede in alcuni casi addirittura si spaccavano e quindi abbiamo deciso completamente di eliminare il problema alla radice come? siamo andati a creare queste boccole ovviamente andando a ridisegnare il telaietto per avere il corretto centraggio queste boccole cosa permettono di fare? permettono di fare da fermo sul cuscinetto quindi su tutto il blocco motore si vanno ad inserire dentro al cuscinetto e una volta strette col suo perno poi lo vedremo nel montaggio andranno a creare un pacco che completerà la chiusura sarà in questo modo avendo delle battute da entrambi i lati impossibile per il blocco motore muoversi e quindi creare delle problematiche legate alla nostra ciclistica e alla stabilità la seconda modifica che siamo andati a fare è quella legata all'interasse quindi alla distanza tra i due cerchioni sono in lato a modificare quindi la distanza per donare maggior stabilità al mezzo cosa che purtroppo il telaio del booster ne risente tanto ovviamente questa modifica affinché si possa sentire completamente ha bisogno anche di sospensioni comunque diciamo decenti che non è questa che vediamo nel video in quanto è solamente un mezzo per il montaggio come poi vedremo successivamente terza e ultima modifica per quanto riguarda la ciclistica è quella dell'altezza del motore o per meglio dire la modifica della presa del motore andando a ridisegnare la billetta finale del nostro supporto motore che vediamo qui siamo andati a donare un'inclinazione al carter differente rispetto alla vecchia versione è più idonea per il montaggio detto questo ci spostiamo invece a vedere le migliorie tecniche legate al discorso di montaggio sospensione carburatore e cilindro quale migliorie siamo andati da portare sul telaietto le possiamo classificare in tre punti la prima cosa che siamo andati a modificare è stata quella di finalmente poter montare qualunque tipologia di carburatori senza andare ad eseguire alcuna modifica infatti questa versione di telaietto per chi non lo sapesse permette di andare ad installare i carburatori sia in versione piaggio senza andare a modificare nulla così come state vedendo all'interno del video ovviamente andando a utilizzare una basetta inclina di inclinazione della stage 6 vi posso lasciare comunque sotto il link in descrizione oppure potete installare il carburatore anche in versione frontale così come originalmente fatto da minarelli andando ad apportare una piccola modifica al telaietto ma quello che è stato effettivamente modificato non è questo ma come vi dicevo la possibilità di montare tutti i tipi di carburatore perché questo molto semplicemente perché avevamo questo bullone che è di ancoraggio del telaietto che andava a collidere con alcune tipologie di carburatori tipo ad esempio i pvk o anche i classici comuni dell'orto avevamo infatti questa parte qui come vediamo che andava a toccare adesso nel video non so se si vede andava a toccare contro il carburatore come vediamo possiamo utilizzare qualunque tipologia di carburatore adesso estremizziamo il tutto prendendo un carburatore di diametro 30 in particolar modo il VHSH senza più avere questo problema quindi potremo apportare qualunque modifica al motore con qualunque carburatore che noi desideriamo senza avere il problema del carburatore che toccava sul carter e quindi questa problematica è stata risolta e possiamo dar fantasia alle nostre idee alle nostre elaborazioni la seconda problematica che è stata risolta era che con alcuni cilindri avevamo questo bullone che vediamo qui sotto che andava a collidere che vi sto indicando andava a collidere con la testa del cilindro quindi sfregava sul cilindro bisognava limarlo eccetera 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 andando ad applicare dei bulloni di tipo differente e ridisegnando l'ancoraggio siamo andati a risolvere anche questa problematica e quindi non ci sarà più nessun tipo di sfregamento non dovrete più modificare niente quindi preso e montato così com'è terza e ultima modifica che siamo andati a fare riguarda la possibilità di installare tipologie di sospensioni posteriore diverse infatti con questa nuova versione di telaietto possiamo utilizzare sospensioni fino a 300 mm cosa che prima non era assolutamente possibile fare anche se il mio consiglio di rimanere a massimo 250 mm di altezza in ogni caso anche in questo caso possiamo dar spazio alla fantasia e montare diverse tipologie di sospensioni senza preoccuparci del ci stanno non ci stanno e quindi di non avere nessun tipo di problema bene ragazzi io direi che per oggi ci possiamo fermare qui in questo video abbiamo visto le specifiche del prodotto ma nel prossimo video ne vedremo il montaggio sotto al telaio del booster quindi finalmente ci andremo a sporcare le mani troverete il video sotto in descrizione e nei commenti dove vi lascerò anche il mio contatto instagram e la mia mail dove potermi iscrivere nel caso in cui siate interessati al prodotto detto questo io vi auguro una buona giornata un saluto alla prossima ciao 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 ciao